Si è conclusa nel migliore dei modi la 53esima sagra del pesce di Pozzallo. A dirlo, il sindaco della città Roberto Ammatuna, soddisfatto per la manifestazione in grado di attrarre migliaia di presenze, anche ieri sera con il grande atteso concerto di Arisa, attualmente impegnata in un tour estivo in giro per l'Italia con il Little Summer Tour. La manifestazione è riuscita infatti nel complesso ad attirare presenze record dall'intera provincia, non pochi poi i turisti. È stato proprio un successo, ha affermato Raffaele Monte, assessore al turismo e allo spettacolo, sia in termini di presenze che di partecipazione, ma anche in termini di apprezzamento della formula proposta con la modalità street food. La sagra 3.0 ci vedrà, a partire già nei prossimi mesi, impegnati nella programmazione 2003 in sinergia con la città. Per il concerto di Arisa, prosegue, c'è stata una mega folla che ha applaudito l'artista, che si è dimostrata davvero, oltre che professionale, anche disponibile con la città, dialogando con il pubblico, che ha apprezzato davvero tanto la sua kermesse sonora. Un ringraziamento va quindi a tutte le persone che sono arrivate da fuori Pozzallo, ma in modo particolare desidero ringraziare tutti i miei concittadini per la loro presenza in piazza e per aver apprezzato, conclude, l'offerta proposta. La cantanta Arisa è stata, prima del concerto, ricevuta a Palazzo di Città. Alla cantante sono stati donati dei prodotti tipici artigianali. Tra i vari poi appuntamenti della manifestazione, anche un importante convegno sul cibo e sulla sicurezza alimentare, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia.